Ciao ragazzi, benvenuti in questa partita classificata Nella mappa siamo al caffè Dostoevsky, se non ricordo male, abbiamo individuato chiunque Cavola che spara? Haglatz, hai tirato giù la telecamera? Cosa fa? Ash là Non so se è lui E quindi siamo prontissimi Allora hanno uno Jäger, Rock, Kapkan Quindi Kapkan è indistruttibile perché ha già 3 di corazza lui In più si è messo anche quella di Rock Stiamo belli freschi Abbiamo lì il Mute, il Castle Quindi sarà abbastanza incasinato Ma che cavolo è che spara? È Ash? Boom! Così i vostri bei sistemi non li utilizzate più Io però ricordo che qui c'era una cavolo di botola Eh, difatti Boom! Dove siete maledetti? Lancio una granata EMP Ole! La porca vacca li sono caduto secco davanti Ma è possibile? No, mi ha ucciso Fuzz, il mio compagno di squadra Io non ci credo Ma vi rendete conto? Mi ha ucciso Sempre i miei compagni di squadra devono uccidermi Io non ho parole Io non ho parole Veramente Dai, spara, spara Oh, dai Che cavolo Perfetto Siamo nuovamente qua Dove erano in pratica Around prima Gli avversari E devo assolutamente andare a coprire Quella botola là Però Capite che Con Rock Non è proprio l'ideale Piazziamo giù sta roba qui Bam! Fantastico Qua piazziamo una bella barricata Porta rinforzata Dai, 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 dai Porta rinforzata anche qua Così lì vedono qualcosa di più Tutto chiuso magari Si insospettiscono Porca vacca Lo sapevo Lo sapevo L'avevo visto però Una volta che piazzi giù Eh, il coso Non puoi più Richiamarlo Vai Con l'è morto Fantastico Quattro contro due Una partita fatta Con i fail Proprio Bravo Perfetto Con l'è morto anche Che bello ragazzi Abbiamo mangiato una bella granata Spara, spara, spara L'ho visto io L'ho visto io Vai Niente da fare Purtroppo è andata così Ed eccoci qua Il terzo round Vediamo di non fare più fail In teoria Abbiamo individuato Anzi togliete la teoria Abbiamo individuato La posizione Di un po' di cose Però Da quello che ho visto Sono sparsi molto in giro Per l'edificio Io piazzo qui una bella Carica esplosiva E Boom Perché chiaramente qua Era tutto coperto Ho fatto un altro Mio bel fail Quello l'ho ucciso a caso Ragazzi Non chiedetemi il perché Il motivo Buona Distrutti tutti Dai volevo lanciare L'ultimo coso di Fuzza Invece niente E come al solito La mia squadra Ha votato Per andare qua dentro Dai spostati Levati Che devo andare a riparare Il pezzo sopra Visto che nessuno Qua ci pensa Io ho preso il dottore Così è molto Più veloce Grande prova Hai fatto il giro Quello lì è un po' più corto Quindi buona Il contenitore di biorischio è stato trovato Cavolo 10 secondi Qua ti piazzo Uno e una due Per coprire tutto quanto bene Ecco Fuzza Che ne ha subito ucciso uno Spettacolare Dove cavolo è che sono questi 4 contro 4 Ottimo Uno dei miei è morto Eccolo Ma com'è fatto a uccidermi Cioè I miei colpi Ma non mi ha manco preso Ha sparato Ma Vada Non capisco Veramente 2 contro 2 Che Frost Con quel fucile a pallettoni È una cosa Impressionante È potentissima Quell'arma Aspettate 20 secondi 20 secondi Restano 15 secondi 15 Obiettivo conteso Vai 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 Grandissimi Impedite al nemico di prendere il contenitore Restano 5 secondi Vabbè E così Abbiamo vinto Obiettivo conteso Ah Però devi scendere amico eh C'è l'obiettivo conteso qua Scendi 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 Oh il tempo si è fermato a 0 0 0 Non mi era mai mai successo Vai 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 Cavolo Grandissimo Seccalo Eh Come faceva a non morire quello Io non ho parole Veramente Round 4 vinto Finalmente Guardate Non voleva morire quello Ed eccoci qua Con Il Round Credo finale L'obiettivo da mettere in sicurezza È stato trovato Vi faccio vedere anche Come è stato trovato Guardate dove ho messo Estremo Non si sono ancora accorti di niente Tanto non hanno preso Mute Questi Dai Non ne uccido manco uno Non ci voglio credere Se non lo sapete Queste Porte qua Riparate Si possono tirare giù A chi Così Qui avranno coperto Io entro Porca di quella vacca Lo sapevo Ragazzi in questa partita Ma quanta sfortuna Ho Non ho parole Cioè io non ho parole Veramente Come nessun nemico rilevato Sono qua davanti Ma dai Si è ricreata tutta la barriera Prima l'avevo rotta Ma come Nessun nemico rilevato È qui Sto gioco è buggato Non è possibile Guarda quanto è fatto male Nessun nemico rilevato Ma ne ho due davanti Cioè questa è proprio Una di quelle partite Non so ragazzi Quando non è giornata Spaccati tutto Vai Spara 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 Grande Grande Spara Spara Non aver paura Non so che quello Si mette in mezzo Poi Bravo Però non l'hai ucciso Mi sembra Se forse cambi pistole Prendi un fucile C'hai un FAMAS Dai vai Sparcati tutto 4 contro 3 Anche se con gli altri Dai aiutalo Round 5 Vinto Ottimo Cosa cavolo è successo qua Ok l'ha ucciso così Perfetto Perfetto Allora direi che Abbiamo vinto 4 a 1 Io ho fatto Letteralmente schifo Ditemi sotto Nei commenti Se anche a voi Capitano queste partite Perché chiaramente Ragazzi io vi carico Tutte le partite Che mi capitano Da quelle belle A quelle brutte A me proprio Non mi interessa Quindi se vi fosse piaciuto il video Lasciate tantissimi pollicioni in su Commentate Condividete Qua da Bistard è tutto E noi ci vediamo al prossimo video E noi ci vediamo al prossimo video